su oh dai piccola su un po' facciamo la cucina farò che possiamo dai 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 su dai 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 ma non si può chiamare nel frattempo stanno incendendo tutta l'acqua dalla bocca dal naso non dal naso sta uscendo respira, 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 respira si sta respirando, ma un veteranzo vuoi chiamare, scusate chiamate un veterinario, respira si qui, che respira opposto chiamalo chiamalo, chiamaloан chiamalo a perreo, chiamaloun la rosa mettiamolo all'ombra